Ciao a tutti gente, benvenuti a un nuovo video, io sono Mattia e oggi giocherò di nuovo a Heyday Scrivete sotto i commenti se vi piace Ok, io faccio questo, c'è un'altra, ma credo che non la faccio perché mi serve per la barca Intanto raccogliamo delle uova, tutte le uova, perché si nascondono negli angoli i polli e mi danno veramente tantissimo fastidio perché sono negli angoli E ho preso il pass battaglia, il pass battaglia, non siamo sofforti, vabbè, ho preso il pass dei polli, pass della fattoria, ecco Ho rischiattato già tutto, scusate se non l'ho fatto senza di voi Allora, mettiamo a piantare un po' di carote Vediamo cosa c'è qui Ehm, forse niente che mi interessa Non lo so Ehm, no niente Ehm, per un dio Ma questo è 4.2 Forse in questo video lo utilizzeremo Yeah Ah, mi manca veramente, mi mancano due per il cane Due bigliettini per il cane Ehm, quando avrò i bigliettini poi vi farò sapere Intanto se volesse essere i miei amici Questo è il codice Aspetta Se io voglio essere tuo amico Allora Ehm, scusate veramente Che sbaglio Perché io non ho mai accettato una richiesta Sono un pollo, veramente un pollazzo E se me la puoi rimandare Ehm Mi fareste un favore Perché veramente non riesco E l'ho annullata Quindi rimandamela Ricordate i tag di questo qui Ehm, G, U, O, 0, J, J, U, Y, 0, Q Poi Ora Guardiamo Allora, quello zerbi è Quattro per bacca Tre Oddio Allora, questa è una missione molto buona Molto, molto buona Che lo ha molto, molto, molto Allora Andiamo Cosa ha bisogno di aiuto Vediamo cosa ha bisogno Uh, sì Madonne Oh, dai Altre cose Mi potevo fare due No 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 Moronne Cosa ci serve? No, beh, dovevo entrare Cosa ci serve? No Cosa ci serve? Botta Perché io quando registo Passano la moto Cioè Fino ad ora non è passato Neanche una moto In tutta la giornata Ora Io registo No No Tu non registi Ma tu no No Si sa mai Mai Cioè State qua Questi qui Più Così Boh Non ho parole Ovviamente Quanti alberi Più ti secchi Boh, vabbè Non parto Perché Veramente Io Però Vabbè Questo qui È una barca Sì Popcorner Mi è sogna Che Scusa Che io Non ce l'ho Un mezzo Non ce l'ho Un mezzo Allora Ok Vediamo Vediamo Mi servono A me Vabbè A me Mi servono Le acette Tutte Queste robe Allora Prendiamo Tutto Il grano Ok Prendiamo Vediamo Il Vabbè E Oh Si Allora 3 2 1 Vai Allora Non lo possiamo Ecco Vediamolo Ah Possiamo fare Questa 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 Unica Che possiamo Fare E Questa Quindi Un'ora Ci mette E Tra un'ora Io non Sarò In rec Però Forse Farò In un altro Vivo Ne so E Allora Vediamo Se c'è Qualcos'altro Da fare Il Oh Si Madonna Grazie Al cielo Facciamo Un po' Di Mangime Mangime Non Posso Ecco Tranne Allora La mucca La La Pecola E Maiale No No Ma Tra un po' Sbloccherò La Miniera Yeah Aspetta Ma Io Aspetta Posso Posso Prendere Questo So che Mi Richiede Tipo Ancora Cinque Quindi Scrivete Sotto Nei commenti Se io Devo Prendere Anche potrei Prendere Anche Questo Gatto Però Vabbè Ehm Tra Questo E Questo Quindi Scrivetelo Sotto Nei commenti Per sapere Io Ho Sette Bigliettini Verdi Otto Blu Tre Viola E Quattro Arcioli Vediamo Se c'è Qualcosa Nel Giornale Vediamo Vediamo Mi sa No Mi sa Niente Prendo Questo Perché Nesto Latte Pogno Qui Vabbè Allora Io direi Di Fermare Qua Il Video Ehm Lasciate Like Iscrivetevi Ehm Scrivete Sotto Nei Commenti Quale Cagnolino Dovrei Prendere Ehm Tra Questi Due Adesso Vi faccio Vedere Aspetta Ehm Questi due Scrivetelo Sotto Nei Commenti E Noi Ci Salutiamo Ciao 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 Ciao